Ciao da Matteo di Audiocostruzioni. Oggi parliamo di Roxanne, amplificatore inglese, uscito un po' in sordina perché non si sanno tante informazioni in giro, ma che abbiamo già venduto questo qua il modello a Tessa, in particolare questo con lo streaming incorporato, l'abbiamo già venduti diversi, abbiamo quindi un feedback diretto dai nostri clienti ed è piaciuto da matti. Parliamo anzitutto di Roxanne, un marchio inglese che è importato dall'MP Electronic di Milano, importatore anche di Macintosh, Sonos Faber, Accuphase e tanti altri marchi, quindi abbiamo un'assistenza ai massimi livelli. Roxanne fa parte del gruppo della Monitor Audio. Quando andiamo ad acquistare per l'appunto Roxanne, sopra c'è scritto nell'imballo Monitor Audio Group. Cinque anni di garanzia, prodotti inglesi costruiti benissimo e che a me fanno impazzire come suonano. Infatti il modello precedente, il K3, ce l'avevo in camera, l'ho utilizzato io per diverso tempo, proprio con delle monitor audio, per me era un amplificatore della madonna. Questo fa un ulteriore passo in avanti, andiamo ulteriormente verso un utilizzo più fruibile della musica liquida, con tanti ingressi digitali che dopo andiamo a vedere, ma da un punto di vista sonoro rimaniamo con le medesime caratteristiche. Parlando appunto di caratteristiche, abbiamo 80 W per canale su 8 Ohm, mentre 130 W su 4 Ohm. Quindi ad esempio, qui abbiamo delle Sonus Faber, delle Vennere 2.5, questo è un modello usato, loro vanno a 4 Ohm e quindi sono perfette in abbinata ad un Roxanne a tessa perché abbiamo 130 W per canale. A cosa mai serviranno 130 W per canale? Ad ascoltare bene a bassi volumi, perché è una cosa che tutti dobbiamo e siamo obbligati a fare, l'ascolto a basso volume perché magari abitiamo in condominio o tante altre caratteristiche, non possiamo alzare il volume troppo, e quindi con amplificatori di questo genere con tanta potenza abbiamo la necessità e soprattutto riusciamo a mantenere bassi i volumi, ma mantenendo per l'appunto un calore molto interessante, quindi i bassi che siano belli presenti, e soprattutto una ricostruzione scenica che deve essere perfetta, perché a volte capita che con amplificatori con poca potenza ci troviamo a dover alzare troppo il volume per ottenere la scena che dovremmo avere per l'appunto a medi e bassi volumi. In questo caso zero problemi perché abbiamo tanta tanta corrente. Parlando delle funzioni un po' più tecnologiche di questo amplificatore abbiamo, oltre a tutti gli ingressi digitali che andiamo a vedere dietro, la caratteristica fondamentale di questo Atessa Streaming Amplifier è il fatto che si può connettere a internet tramite porta ethernet oppure tramite wifi e si connette all'applicazione BlueOS. Quindi noi andiamo a scaricare sul nostro telefonino questa applicazione BlueOS, che è molto semplice da utilizzare. La prima volta dobbiamo inserire tante cose, quindi tutte le nostre credenziali, dobbiamo collegarlo al wifi di casa, dobbiamo collegarlo alla porta ethernet, se è ancora più veloce e dopodiché riusciremo per l'appunto a collegarci a tutti i vari servizi streaming. Vi faccio vedere qua, praticamente gli streamer bene o male sono tutti uguali, quindi non sto tanto a spiegarvi l'applicazione che è molto semplice, ma guardate qua che figata quanti ce ne sono. Quindi molte volte mi arrivano delle richieste e mi dicono posso utilizzare Tidal senza problemi, che supporta gli MQA, quindi l'unfolding delle MQA in qualità 1 a 1, in qualità master. Spotify, Kobuz, poi ce ne sono una valanga, Amazon Music HD. È uno degli unici streamer, uno dei pochi streamer che supporta Amazon Music HD, quindi qualità FLAC, 24 bit, alla massima risoluzione possibile. C'è anche Alexa all'interno, se vogliamo un po' divertirci. Altre caratteristiche, altre cose che si possono fare con questa macchina. Oltre, sempre parlando dell'applicazione, oltre a Blue OS, Roxanne ci mette anche in dotazione questa applicazione. Questa seconda applicazione prodotta da Roxanne possiamo andare nei setting della macchina. Ce ne sono alcuni che sono molto molto belli. Oltre a poter selezionare il balance, il bypass, quindi possiamo utilizzarlo solo come finale da collegare in un impianto audio-video per comandare esclusivamente i due canali frontali. La cosa più bella è la sensibilità. Possiamo settare, ad esempio, ed aumentare la sensibilità del ingresso Fono, così come anche l'uscita cuffie, che vedete qui, che è di buona qualità, dopo nel sito ve ne parla in maniera più precisa. Se abbiamo delle cuffie con un'impedenza che necessita di più corrente, di più potenza, possiamo abbassarla oppure aumentarla, così, direttamente dall'applicazione. Possiamo anche cambiare delle icone, ma queste sono cose secondarie. Ora lo andiamo a vedere dietro, vi parlo del suono e vi parlo anche di un'altra macchina molto interessante. Eccoci dietro, partiamo da sinistra. Una singola coppia di altoparlanti possiamo collegare con banana, cavo spelato e la forcella. Ingresso Fono solo MM con la sua massa. Analog input ne abbiamo due. Quindi da un punto di vista degli ingressi analogici non è che si sono sprecati tanto, però ci sono tre ingressi, un giradischio, un lettore CD ed un tuner e abbiamo già finito tutto. Uscita pre-out, quindi un giorno vogliamo collegare un secondo finale di potenza, si può fare senza problemi. Ingressi digitali che accettano flussi PCM 24 bit al massimo, ma questi, diciamo, questi ingressi di loro natura non possono accettare altri tipi di segnali, di flussi. Ingresso LAN, quindi Ethernet. Porta USB da collegare direttamente a una pennetta USB, molto semplice. Solo le pennettine ce la mettiamo dietro e questo qua serve per il centro assistenza. i trigger, molto interessanti, per cui possiamo collegare un lettore CD esterno e farlo partire insieme con il medesimo telecomando e infine la vaschetta WDE. Parliamo un po' del suono e di altre caratteristiche di cui non vi ho parlato ma che vediamo qua dietro. Abbiamo il Bluetooth integrato nella macchina, molto semplice, non bisogna acquistare nient'altro. è già integrato e abbiamo AirPlay. Quindi se abbiamo l'iPhone è molto semplice mandare in musica. Ad esempio prima guardavo un video YouTube, ho voluto passarlo direttamente all'amplificatore, con AirPlay è passato l'audio, guardavo il video del telefonino e l'audio è andato per l'appunto tramite l'amplificatore. Come suonano questi ROXAN? Abbiamo un suono molto delicato, proprio stile inglese. Nel medio alto suono abbastanza precisi ma senza andare nel troppo preciso. Non parliamo di un amplificatore per esempio giapponese che ha un medio alto molto in evidenza. Qui è tutto un po' più seduto, tutto in stile più monitor. Però abbiamo quel caratteristico calore inglese nella gamma bassa che ci riempie la stanza, che fa un sacco piacere quando appunto riceviamo questo feedback dall'amplificatore, almeno per quanto mi riguarda. E quindi possiamo avere un ascolto sì, preciso, ma al contempo molto rilassato. A cosa abbinerai un amplificatore del genere? Come vi dicevo prima, le Sonus Faber vanno da Dio, questa qua è la serie Venere, ma anche la serie Sonetto da scaffale va benissimo. Poi abbiamo qua tre diffusori inglesi, ovviamente monitor audio, per me è l'abbinamento migliore che si può fare con ROXAN per quanto mi riguarda. Qua abbiamo la Gold 300, ma anche la Silver, la Bronze, si abbinano benissimo. Una volta abbiamo venduto un impianto, un signore che sicuramente ci sta guardando, con le GBL, la nuova serie GBL Classic, le L82 e le L52, con questo amplificatore e anche lì, perché abbiamo tanta tanta potenza, le GBL serve tanta potenza e abbiamo raggiunto un risultato ottimo. Parliamo del prezzo, listino 2550 euro, oggi siamo a febbraio 2022, ci sono continui aumenti, quindi il listino è valido ad oggi, e poi ci sono le varie scontistiche che trovate nel nostro sito internet. Se vi piace questo amplificatore, ma non volete tutte le caratteristiche di streamer incorporato, c'è il modello ROXAN ATESSA senza lo streamer, quindi proprio si chiama ROXAN ATESSA INTEGRATED, che costa di listino 1750 euro, quindi listino precedente 2550, qui 1750, poi c'è da fare la scontistica, ha tutte le funzioni di quello che vi ho parlato prima, quindi dell'amplificatore con streamer incorporato, senza ovviamente lo streamer, ma mantiene comunque gli ingressi ottici classiali, perde l'USB, quindi non abbiamo più l'USB da pennetta, e perde ovviamente tutte le funzionalità da app, quindi Blue OS, e mantiene le stesse caratteristiche da un punto di vista della potenza, quindi 80 watt su 8 ohm, 130 su 4 ohm. Peso di questa macchina è 10 kg, quindi è una macchina bella sostanziosa, abbiamo un torreidale qui al centro enorme, ROXAN fa sempre amplificatori del genere, e a me piace da matti. Lo abbiamo oggi in esposizione, potete venire ad ascoltare, oppure possiamo spedirlo senza problemi in tutta Italia. Per ordinarlo in infochiocciolaaudiocostruzioni.com. Ciao da Matteo!